Sono Claudia Cassatella, insegno pianificazione paesaggistica e territoriale al Politecnico di Torino nella nostra scuola di pianificazione e progettazione. Il Politecnico di Torino ha come missione la ricerca, la didattica e la condivisione, il trasferimento delle conoscenze. Il territorio della città metropolitana è da sempre il primo territorio a cui pensiamo per la sperimentazione dei nostri metodi di ricerca e anche per l'uso all'interno della didattica. Sulla politica ambientale e i piani ambientali della città metropolitana di Torino ci siamo esercitati come ricercatori, si sono esercitati i nostri studenti ed è così ancora adesso. La città metropolitana ospita anche molti dei nostri tirocinanti e anche alcune persone che sono laureate da noi. C'è una circolarità di intenti e di interesse su questi temi e anche una disponibilità a sperimentare ed essere sempre all'avanguardia che rende prezioso per noi come partner la città e in particolare penso anche ad alcune delle persone che lavorano qui dentro come il dottor Bovo, il dottor Salberico e molti altri con cui abbiamo sempre trovato disponibilità anche a lavorare e a sperimentare.